Ciao a tutti amici, vado a fare questi biscotti con la ricetta di Luisa Bertolino, vi metto poi il link del suo blog in descrizione. Questi sono i tre tipi di cereali che ho usato, li ho frullati un po' grossolanamente, il burro che terrò a temperatura ambiente, lo zucchero di canna, la farina, poi c'è il lievito e la cannella e l'uovo. Bene, sbatto con la foglia il burro con la farina e poi metto tutto il resto, uovo, cannella, zucchero eccetera. Metto anche un pizzico di sale, faccio girare un pochino e poi per ultimo metto i cereali. Ok. Giro ancora un pochino ed ecco qua l'impasto. Formo una palla che vado a coprire con la carta forno in modo che così posso allargarla piano piano. in questo modo, l'abbasso prima un pochino e poi l'allargo. ecco qua, nel frattempo ho acceso il forno a cento, centosettanta, ma anche centottanta. Adesso lo aggiusto un pochino con le mani, così, e poi abbasso un altro pochino. Deve essere alto all'incirca mezzo centimetro. Ecco qua, ci siamo. A me sono venuti all'incirca 40 biscotti. Poi dipende molto dalla forma che scegliete, dalla grandezza. Ho preparato questi stampini, questo a forma di fiore. Le mandorle, no, le ho messe, ma non credo che le metto perché non sono previste nella ricetta. Però se volete potete anche mettere qualche mandorla così, giusto per abbellire. Adesso sto usando questa formina, ma penso che farò anche altre forme. Se è meglio fare così, mettere direttamente sulla carta forno, ok, e poi naturalmente i pezzi che rimangono li rimetto insieme. E non lascio, non faccio sprecare niente, naturalmente, li rimasso e li rimetto insieme. Adesso userò anche quest'altra forma un pochino più grande. E questa, la forma del cuore, così faremo anche i cuoricini. Ok, eccolo qua, molto carino. Continuo fino all'esaurimento completo dell'impasto. In forno la prima teglia a 180, però se vedete che scuriscono troppo, abbassate a 170. Per 15 minuti, 15 minuti sono sufficienti. Eccoli qua. Spolverizzo con un po' di zucchero a velo. I miei biscotti sono pronti per la colazione o per la merenda con un tè. Ringrazio Luisa per questa ottima ricetta. Sono veramente buoni, li ho già assaggiati naturalmente. Vi invito a farli perché è semplicissimo farli, non ci vuole molto. Bene, amici, io vi saluto e naturalmente ci vediamo al prossimo video. Ciao! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!